Insieme con il cuore e il tema della campagna di Natale di Teletone dell'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare, un appuntamento che vedrà in piazza i volontari per vendere alcuni prodotti per una raccolta benefica ovviamente per i più bisognosi ad aderire a questa iniziativa anche il SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, un momento importante di vicinanza alla città. Il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, intende esprimere la propria solidarietà in questo contesto in cui ci sono parecchie criticità e vuole trasmettere alla cittadinanza un forte messaggio di solidarietà e di impegno sociale. Chi può ha il dovere di aiutare chi ha maggiormente bisogno. Il periodo natalizio è un periodo magico nell'immaginario collettivo. È un periodo fatto di attese e di speranze e per i bambini che soffrono, che hanno una malattia genetica rara, l'attesa più grande è quella di trovare una cura per un futuro migliore. Teleton si muove due volte all'anno in particolare, nel periodo primaverile e in quello natalizio. Quindi in queste due attività che facciamo in tutta Italia non facciamo altro che chiedere ai cittadini di raccogliere fondi per poter portare avanti le malattie genetiche rare soprattutto. Tanto è vero che il motto di Teleton quest'anno è diamo un futuro ai bambini.